Buongiorno a tutti, sono Francesco Vitale del servizio protezione civile della città metropolitana di Torino. Questo mio intervento serve a chiarire alcuni aspetti fondamentali del rapporto fra la città metropolitana di Torino e i comuni che fanno parte del territorio rispetto alla protezione civile. In particolare vedremo anche quali sono gli obiettivi fondamentali di un progetto sperimentale che si propone di inserire la protezione civile o almeno alcune procedure nei contratti di fiume. Prima di arrivare a questo obiettivo però è necessario fare alcune premesse fondamentali e cioè rispondendo a queste domande innanzitutto cosa deve fare esattamente la protezione civile all'interno dei comuni, come è possibile prevedere e ridurre i rischi nel territorio, con quali strumenti e con quali azioni e come poi di fatto la città metropolitana supporta i comuni. Intanto va detto subito che lo scopo fondamentale del sistema di traslino e protezione civile è quello della salvaguardia della pubblica incolumità, quindi questo non va confuso con tutto quello che riguarda i concetti di messa in sicurezza del territorio, la realizzazione di opere eccetera, quindi in qualunque condizione il sindaco in particolare vedremo deve essere in grado di garantire l'incolumità dei cittadini e per far questo, per realizzare questo importante obiettivo vi sono dei soggetti a livello nazionale ma anche locale, organi di controllo, centri specializzati e di competenza che svolgono quotidianamente tutte le necessarie funzioni che sono necessarie per la protezione dei cittadini alle varie scale territoriali. Quindi ciascun comune è il luogo fondamentale dove l'azione di protezione civile viene svolta e questo sotto il controllo della massima autorità locale che è il sindaco. Quindi il sindaco ha autorità territoriale sia nei momenti di ordinarietà dove predispone ogni risorsa utile e ogni mezzo per la sicurezza e il controllo del territorio, sia durante le emergenze, soprattutto in queste, assume il comando e il controllo di ogni operazione di salvaguardia della pubblica incolumità. Ogni comune per fare questo è dotato di un apposito piano di protezione civile che descrive in dettaglio che cosa deve fare il cittadino nei casi di emergenza e soprattutto dove siano situate le zone rischiose del territorio, i problemi e i danni prevedibili, le risorse necessarie che il comune può impiegare e i provvedimenti che il sindaco può adottare per prevenire i rischi e assistere e soccorre alla popolazione quando serve. Quindi sono delle procedure di allerta d'emergenza. I primi due punti invece si chiamano scenari di rischio e scenari di evento. Ogni comune è dotato di un piano, quindi dicevamo, che con quattro sintetici argomenti descrive nel dettaglio quali sono le zone rischiose del territorio, quindi gli scenari di rischio, i problemi e i danni prevedibili, gli scenari di evento, le risorse necessarie che il comune può impiegare e le comunicazioni e i provvedimenti che il sindaco adotta durante l'allerta e l'emergenza. L'insieme di queste quattro voci rappresenta la risposta concreta al rischio che l'amministrazione comunale è in grado di offrire ai cittadini, quindi scenario delle zone rischiose, scenario degli eventi e dei danni prevedibili, mappa delle risorse da impiegare, comunicazione di allerta e provvedimenti di emergenza sono i quattro punti fondamentali intorno ai quali si svolge l'azione concreta, la risposta concreta del comune rispetto alla protezione civile. Cos'è in particolare la resilienza? Questo introduce un argomento fondamentale che negli ultimi anni è emerso come una garanzia dell'applicazione delle norme di protezione civile all'interno del comune e per far questo il codice recente della protezione civile approvato a meno di due anni fa, all'inizio del 2018, sottolinea che la risposta al rischio non riguarda soltanto l'amministrazione che attraverso la sua autorità controlla le varie situazioni che si manifestano, ma va anche commisurata a una importante capacità che i cittadini possono avere di coinvolgersi nelle operazioni sia durante le emergenze ma anche prima, reagendo agli eventi sfavorevoli in modo ad aiutare a ridurre l'impatto delle calamità. Questa è la capacità collaborativa di una comunità che viene oggi indicata appunto con il termine di resilienza, quindi è la capacità di superare le calamità nel migliore dei modi possibili e nel più breve tempo possibile. Quando si realizza la resilienza? Quando l'amministrazione svolge una corretta politica di crescita della consapevolezza diffusa? E quando i cittadini hanno un facile accesso ai contenuti del piano comunale di protezione civile? Perché possono? Uno, approfondire la comprensione delle mappe dei rischi e delle risorse utili per contrastarli. Due, quando riconoscono e comprendono velocemente i messaggi di allerta che possono essere diramati dal comune in risposta all'emergenza anche in via precauzionale. Come terzo punto, la resilienza si realizza quando si comprende lo scopo e si accoglie positivamente i provvedimenti che il sindaco può adottare attraverso le sue ordinanze temporanee e urgenti. Pensiamo ad esempio all'evacuazione di edifici, di aree o all'interdizione dei pubblici uffici e così via. Tutti i provvedimenti che ovviamente causano dei problemi ma che per la sicurezza il sindaco può adottare. Il quarto punto che realizza la residenza è quando si hanno sempre disponibili e molto velocemente le fondamentali norme di autoprotezione che i cittadini devono adottare per contrastare ogni forma, ogni fonte di rischio e in qualsiasi caso. Anche il codice della protezione civile, dicevamo, valorizza la resilienza. All'articolo 2 per esempio parla dell'articolo 2 del decreto legislativo numero 1 del 2018 che è appunto il codice della protezione civile, tratta della diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, l'adozione di comportamenti consapevoli e delle misure di autoprotezione da parte dei cittadini, che è proprio quello che dicevamo prima. All'articolo 31 inoltre parla della partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, vedremo anche in particolare della pianificazione. Dice così, il Servizio Nazionale di Protezione Civile promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla pianificazione di protezione civile, anche mediante contributi di natura professionale. Parliamo adesso della previsione dei rischi nel comune, all'interno del territorio comunale e quindi la prima cosa da dire è che nella possibilità appunto di prevedere dei rischi e quindi di avere un sistema affidabile di previsione, oggi questo è possibile soltanto con i fenomeni meteorologici intensi, quindi gli unici apparati monitorali che possono offrire un sistema di previsione affidabile è quello meteorologico. Per far questo il compito di previsione è stato affidato ai centri di competenze gestiti dalle regioni o direttamente dal Dipartimento Nazionale. Questi centri di competenze si occupano del monitoraggio e dell'allertamento meteo-idrologico, diramato ai comuni in via ufficiale. Il sistema di allerta regionale in Regione Piemonte rappresenta un aiuto concreto per arginare il rischio di alluvioni attualmente in crescita a causa di un cambiamento climatico globale, sul quale ormai gli studiosi sono generalmente concordi. Le statistiche infatti indicano con chiarezza che in quegli ultimi anni è costantemente cresciuta la frequenza e l'intensità con cui i fenomeni estremi si abbattono, anche nella Regione Mediterranea. Quindi, nella Regione Piemonte, i bollettini che il Centro Funzionale di ARPA Piemonte mette quotidianamente e in particolare quello di allerta meteo-idrologica assumono un valore di ufficialità che prepara i comuni a rispondere in modo veloce e resiliente ai danni attesi. Seguendo le attuali direttive di legge le amministrazioni e i cittadini hanno il compito quindi di rispondere ai segnali di allerta ricevuti. Perciò le informazioni devono essere ricevute in modo ampio e condiviso. La risposta comunale a rischio di alluvione si fonda quindi sul sistema di allertamento meteo già nei momenti che precedono l'arrivo del maltempo, quando la comunità locale può prepararsi adeguatamente a fronteggiare le criticità che sono già state annunciate e previste. In particolare nel bollettino di allertamento a meteo si parla di fenomeni legati alle sondazioni, ai temporali, alle frane, alle valanghe e alle nevicate. Seguendo le attuali direttive di legge le amministrazioni e i cittadini hanno il compito di rispondere ai segnali di allerta ricevuti. Perciò queste informazioni devono essere diramate alla popolazione condivise in modo ampio. Il punto di svolta di questo nuovo sistema di allertamento meteo entrato in vigore nel luglio del 2018 si fonda perciò sulla integrazione di conoscenze e azioni concrete. I comuni attueranno delle risposte locali in modo graduato in base alla gravità delle previsioni, secondo tre distinte fasi operative che sono caratterizzate da precise definizioni che adesso vedremo. In ogni caso, come dicevo in premessa, la città metropolitana ritiene che i contratti di fiume possano diventare un laboratorio in parte naturale e in parte sociopolitico dove si può collaborare a un salto di qualità nella gestione condivisa e coordinata del rischio meteo idrologico. Una pianificazione unica sull'intero bacino idrografico infatti può realizzare una risposta intercomunale coerente con il rischio di alluvione, condividendo sia la comunicazione che il movimento dinamico delle risorse durante il primo soccorso delle aree maggiormente colpite. Significa appunto che una coordinazione a livello intercomunale che riunisce i comuni che fanno parte dello stesso bacino idrografico può rendere più efficiente la risposta al rischio o proprio all'impatto delle calamità. Abbiamo visto che quotidianamente il sistema centralizzato di previsione e prevenzione analizza il contenuto dei bollettini meteorologici e di allerta. Abbiamo visto anche che quando l'intensità dei fenomeni previsti supera determinate soglie viene emesso un codice di allerta a colori. Le allerta a colori sono di tre tipi, allerta gialla, allerta arancione e allerta rossa e ogni codice di queste allerta deve corrispondere all'interno del comune in termini di risposta a una fase operativa. Tutti i comuni che ricevono l'avviso perché ricadono in quella stessa zona allertata quindi devono attivare queste fasi operative. Le corrispondenziazioni da attuare nel territorio sono conseguenti quindi ai cinque rischi che sono valutati all'interno del bollettino di allertamento che sono le piogge, i temporali, le frane di sesti cioè il rischio idrogeologico, la neve e il rischio valanghe. Nel caso di un ricevimento da parte del comune di un'alerta gialla o di un'allerta arancione come minimo il comune interessato, i comuni interessati che ricadono in quella zona di allertamento devono attivare una fase operativa cosiddetta di attenzione. Cosa si fa durante la fase operativa di attenzione? In pratica si fanno delle operazioni di verifica quindi la prima cosa da verificare e questa operazione la svolge la squadra comunale di protezione civile o comunque i soggetti incaricati dal comune a svolgere questi compiti, la prima operazione di verifica da fare, dicevo, è la disponibilità e l'efficienza dei mezzi di telecomunicazione e di trasporto. La seconda verifica è la presenza o il grado di reperibilità degli operatori di protezione civile quindi tutta la squadra che comprende il personale che si occupa di protezione civile all'interno del comune che include anche i volontari ma il personale strutturato, gli amministratori e così via. Se invece viene messa un'allerta rossa, quindi il comune riceve questo tipo di allertamento attraverso la comunicazione ufficiale diramata dalla città metropolitana per conto della regione e quindi il bollettino di allerta, in questo caso i comuni interessati devono attivare come minimo una fase operativa cosiddetta di preallarme. Cosa si fa nella fase operativa di preallarme? I comuni devono immediatamente iniziare sotto la direzione del COC, ovvero del centro operativo comunale a svolgere un'opera di sorveglianza sulle zone interessate dal rischio. Quindi c'è una certa tipologia di rischio che il bollettino sottolinea, ma ci sono anche delle aree sottoposte a questo rischio che sono contenute all'interno del piano comunale di protezione civile. Naturalmente va detta un'altra cosa, cioè che il preallarme può essere attivato dal comune con qualsiasi codice di allerta, semplicemente quando il sindaco lo ritiene opportuno perché evidentemente ha delle risultanze di tipo diverso, quindi una certa situazione che è stata prevista con una certa intensità in realtà può risultare più grave del previsto e quindi si può allertare, si può cominciare la fase operativa di preallarme, quindi la sorveglianza del territorio, anche con un qualsiasi codice di allertamento medio, sia esso giallo o arancio e così via. Una fase operativa di allarme rispetto al preallarme è attivata in qualsiasi momento a giudizio del sindaco ed è a sua volta indipendente dai codici di allertamento medio. L'allarme generalmente corrisponde a un momento nel quale è imminente una calamità o si è manifestata già nel territorio con effetti disastrosi, quindi in questo caso si passa direttamente alla fase di allarme e in questa fase di allarme in realtà viene soltanto rafforzato ciò che è stato fatto nelle precedenti fasi di preallarme e di vigilanza, quindi sono già attive, presenti nei territori operativi, tutte le componenti umane, le risorse umane e tecnologiche sono già sul territorio, stanno svolgendo il loro lavoro, ma evidentemente il manifestarsi di questa calamità grave richiede un ulteriore impegno di forze e quindi necessariamente un prolungamento nel tempo di tutte queste operazioni. Ecco allora che la fase di allarme sottolinea il fatto che la calamità è conclamata. Durante le fasi di preallarme e allarme la sorveglianza sul territorio deve essere, come dicevo prima, rivolta alle aree a maggior rischio rispetto ai fenomeni previsti, siano essi allagamenti, frane, valanghe, eccetera. Quindi sono nel piano comunale delle zone che sono già classificate con rischio molto elevato e lì va diretta l'azione di sorveglianza. In questo caso, dicevamo, nella fase operativa di preallarme e di allarme il COC viene insediato, viene attivato all'interno del comune e questo centro operativo attiva la sua sala operativa per un servizio che normalmente si svolge anche oltre i normali orari di lavoro e quindi questo può naturalmente comportare la turnazione del personale, sia esso volontario o strutturato, fino alla copertura delle intere 24 ore. Pensiamo ad esempio alle calamità più gravi, i terremoti, le alluvioni più gravi che hanno colpito il nostro paese, hanno costretto le amministrazioni comunali a lavorare per molti giorni consecutivamente, addirittura per mesi in certi casi, a copertura delle 24 ore. Quindi evidentemente vi era una turnazione che era in grado di riempire questo intervallo di tempo. In base al tipo di emergenza possono essere attivate le funzioni di supporto che comunque sono strettamente necessarie, quindi di solito sono il volontariato, l'informazione, le telecomunicazioni, i servizi essenziali, la sanità e il soccorso tecnico, ma sono anche altre che nei casi più gravi possono essere attivate per supportare il COC a gestire l'emergenza. Le principali attività che il centro operativo comunale deve svolgere sono innanzitutto il coordinare qualsiasi operazione sul territorio, quindi non vi sono operazioni sul territorio comunale che non transitano dal vaglio del COC, di qualsiasi tipo essi siano. Poi occorre comunicare costantemente con gli operatori che sono impegnati nella sorveglianza del territorio o addirittura nelle operazioni di soccorso. Inoltre occorre aggiornare costantemente il registro di tutti gli accadimenti e le segnalazioni che pervengono al COC con il loro stato di avanzamento, questo perché qualsiasi segnalazione non deve sfuggire al controllo operativo e alle risposte del COC. In ogni caso bisogna costantemente informare il sindaco, che è la massima autorità, dicevamo, sui fatti più importanti che si sono manifestati, anche quando non è presente in sala, perché potrebbe naturalmente essersi spostato altrove e quindi non essere tenuto al corrente per l'autorità sarebbe una grave mancanza, anche perché la responsabilità finale di tutte le decisioni passa naturalmente dal sindaco. Inoltre occorre informare la popolazione nei modi che sono stabiliti dal piano usando i sistemi che appunto sono stabiliti e descritti bene nelle procedure del piano comunale di protezione civile. E inoltre una funzione che può essere necessaria è quella di avanzare a richieste per gli aiuti esterni qualora le risorse del comune non siano sufficienti. Parlavamo prima delle mappe del piano comunale di protezione civile e in questa immagine l'avevamo semplicemente descritta con un'icona per far capire il significato del rischio del territorio, della pianificazione territoriale rispetto alla protezione civile, ma in realtà le mappe del piano comunale devono essere fruibili e comprensibili ai cittadini perché appunto contengono gli elementi di rischio che li riguardano direttamente. Quindi sono elementi di rischio come abitazioni, interi quartieri a volte, sicuramente alcuni tratti di viabilità, edifici pubblici e così via. Questo è un esempio di scenario di pericolosità. Sono delle mappe ufficiali che in Regione Piemonte sono contenute all'interno di una pagina e quindi accessibili a tutti i cittadini e che comune per comune indicano appunto nel caso del rischio meteo idrologico quali sono le aree allagabili e a quale probabilità di accadimento. Le aree più scure sono quelle che vengono allagate più frequentemente, le aree più chiare via via quelle che sono allagabili molto meno frequentemente ma che comunque possono essere allagate, possono essere sondate nei momenti di alluvione grave. A queste mappe di pericolosità sono associate le mappe di rischio che invece classificano all'interno delle stesse aree quali sono le aree considerate a rischio più elevato. Sono classificate da R1 a R4 con i colori via via più scuri. Il viola in particolare contiene degli elementi all'interno che sono a rischio molto elevato quindi si tratta di generalmente di abitazioni e di tratti di abilità di particolare interesse e livello di traffico. Quindi in queste aree l'azione locale della protezione civile dovrà durante la sorveglianza controllare che non stia accadendo nulla di grave e nel caso invece in cui la situazione è peggiori occorrerà attraverso il vaglio e l'approvazione del COC e quindi sotto la supervisione del sindaco fare in modo che quelle viabilità o quelle abitazioni possano essere interdette oppure evacuate perché appunto vi è un costante rischio. Identico è il caso nel quale si tratti di aree in frana oppure di aree soggette a rischio valanghe se il bollettino dovesse prevedere il rischio valanghe quindi si tratta di aree che sono collocate altrove ma attraverso il sistema di allertamento possono essere considerate anche qui a rischio. Quest'ultima slide per concludere ci fa vedere appunto qual è attraverso una schermata in questo caso del sito della regione Piemonte sulla direttiva alluvioni che contiene le mappe ufficiali del rischio quali sono concettualmente le relazioni fra appunto le mappe di scenario, uno scenario di rischio in particolare e l'azione che il comune può essere tenuto a svolgere. Quindi a ogni area di queste corrisponderà nel piano e quindi durante un'emergenza a un'azione che deve essere attuata dal comune a livello preventivo o a livello di soccorso per tutelare l'incolumità dei cittadini che si trovano in quella zona o perché sono residenti o perché sono in transito o perché si tratta appunto di ambienti di carattere lavorativo, commerciale, comunque luoghi che generalmente hanno un'alta frequenza di abitazione o di frequenza durante la giornata. Quindi a ogni fase operativa corrisponderà un tipo di azione che verrà rivolta in quell'area specifica che è contenuta all'interno della mappa comunale. Con questo concludo, vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata.